Ciao, sono Moreno, Moreno Pezzè, in arte utopia. Sto ultimando una delle mie creazioni, uno dei miei personaggi. Parlo con te specchio perché devo parlare con qualcuno, devo raccontare la mia storia. Questo personaggio è quello che più mi piace, è un demonio bianco, un angelo demoniaco. Asulli, ora è va. Ora, ora è va, ora è una cosa che mi piace, mi piace, mi piace, non lo so. E' un caso che mi piace. E' un caso che mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. E' un caso che mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. E' un caso che mi piace, mi piace, mi piace. E' un caso che mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Grazie a tutti. Grazie a tutti.